Buonasera, questo video per fare la consuetta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 19 maggio, sono le 16.30, quindi metà seduta, ci avviamo verso la conclusione. Partirei come al solito dalla borsa italiana, dal nostro future Fuzzimib che viene da una serie di sei sedute consecutive a rialzo molto forti, un vero e proprio rally che ha permesso alle quotazioni di raggiungere la resistenza sul livello 24.150 dove poi sono state respinte con una forte giornata negativa ieri che è andato al di sotto della media mobile A25 facendo un pullback forse anche troppo pronunciato. Nella giornata di oggi vi è un timido rimbalzo, un timido recupero, un riavvicinamento al livello 23.700 proprio dove staziona questo media mobile che se prima era resistenza adesso appunto si conferma tale vista la difficoltà nell'intraday di superarla. Per le prossime sedute pertanto è atteso una fase di consolidamento, nuovamente quotazioni attorno 100 punti più, 100 punti meno al livello 23.500 però nulla è perduto. L'impostazione rialzista del mercato è rimasta intatta e lentamente però questa volta lentamente non come siamo stati abituati nella scorsa settimana ci sarà la possibilità al mercato italiano di recuperare ed avvicinarsi nuovamente all'importante soglia dei 24.000 punti. D'altro canto se prima c'era la resistenza al 24.150 è difficile che continui a farla ma probabilmente vi sarà un recupero. Diciamo che il sell off della giornata di ieri era assolutamente una prese di beneficio fisiologica che comunque ci sta, è normale ma non intacca la positività di fondo del mercato italiano. Situazione un pochettino peggiore, più compromessa invece per quanto riguarda il mercato tedesco, per quanto riguarda il future DAX che ieri anch'esso è sceso al di sotto della media mobile 25 mentre anche oggi sta scendendo con una certa negatività dello 0,50% allontanandosi ancora una volta rispetto alla stessa media mobile 25. Ha toccato un minimo importante sul livello 13.671 e nell'intraday sta tentando di rimbalzare anche se questa volta il rimbalzo è molto molto timido. A questo punto per le prossime sedute però non c'è da disperare anche qui il mercato è impostato nell'intraday al rialzo con il raggiungimento del livello 13.950 e come obiettivo più importante e abizioso il raggiungimento di quota 14.000. Solo sopra 14.000 il mercato potrebbe davvero dirsi uscito da questa fase fortemente negativa rispetto a una delle peggiori rispetto alle altre borse europee. Passando al mercato americano, oltre a Ciano, Wall Street, qui il mercato è fortemente direzionale a ribasso già da diverse settimane, siamo al di sotto di tutti gli indicatori, Paravolex Arme, media mobile e super trend e dopo averci ben fatto sperare qualche seduta fa di raggiungere il livello 4.100, quindi aver abbandonato quella soglia importante dei 4.000 punti, in realtà ieri siamo tornati sotto e siamo andati anche sotto il livello 3.900, cosa che stiamo facendo oggi di mantenerci leggermente a galla, lo stiamo lavorando. L'obiettivo della giornata odierna infatti è quello di mantenerci con una chiusura daily sopra il livello 3.900, anche qui però la negatività è più incombente, è evidente, il mercato è impostato a ribasso, scusate, qui non ci sono al momento segnali di inversione, li attendiamo con trepidante attesa, non è il momento di comperare America, dobbiamo attendere almeno una o due candele verdi per vedere se il mercato recupera e soprattutto se andrà a chiudere, al momento la strada è ancora abbastanza lunga, sopra il livello 4.000, soglia psicologica importante. Riguardo invece alle commodities, quindi cambiando asset class, partendo dal petrolio, il crude oil, finalmente il mercato qualche seduta fa ha superato al rialzo quella importante resistenza che era presente sul livello 110, vi ricorderete che per un mese, un mese e mezzo il mercato ha sempre costantemente uscillato tra 95 e 110, era veramente un calcio di rigore, comprare sui supporti e vendere sulle resistenze, però il gioco poi a un certo punto deve finire, quindi vi è stato il breakout chiaro e evidente del livello 110 con anche il superamento dell'indicatore super trend che ha portato velocemente le quotazioni a 115, adesso c'è un ritracciamento, c'è un pullback, lo ha fatto sulla media mobile a 25 che staziona in area a 105, però qui il mercato è al rialzo, direi che il mercato qui è uscito dalla congestione ed è impostato al rialzo, quindi si tornerà molto velocemente e anche probabilmente verso 115 con poi un obiettivo di estendere i prezzi fino a 120-125, per lo meno questo è anche l'indicazione di molte banche da fare, quindi impostazione rialzista a prezzi che già adesso tra il 105 e il 110 secondo me sono convenienti da poter comprare in un'ottica rialzista con prezzi che saliranno ancora nelle prossime sedute, nella prossima settimana e in generale nelle settimane a venire. Riguardo il gold, invece l'oro, anche qui l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata assolutamente corretta, avevamo detto che la rottura di 1,850 dollari l'oncia avrebbe portato inevitabilmente i prezzi verso 1,825 e poi verso il livello 1,800 cifra tonda che già in passato l'anno scorso era stato un livello molto importante e molto sensibile, quindi target ribassista oramai raggiunto, il mercato non dovrebbe scendere ulteriormente ma invece dovrebbe tentare un timido rimbalzo. E' molto già arrivato vicino a 1,850 ma questo rimbalzo può estendersi anche oltre fino al livello 1,875 e 1,880, poi dovrebbe fermarsi ed arrestarsi, quindi c'è ancora spazio per crescere ulteriormente. Infine uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, all'euro dollaro che nella scorsa settimana ha visto il breakout ribassista di 1,05 con il raggiungimento di 1,04 e anche 1,03 e 75, livelli davvero molto bassi che costituiscono ormai un doppio e minimo supporto su quale le quotazioni poi nelle ultime sedute sono rimbalzate. L'ipotesi più probabile e attendibile è quella che questo rimbalzo, quindi il recupero dell'euro rispetto al dollaro, possa continuare ancora per qualche seduta. Adesso è alle prese con il superamento della media mobile a 25, molto probabilmente verrà superato e l'obiettivo rialzista è raggiungere l'indicatore super trend sul livello 1,06 e 85. Dopodiché il mercato lì se la giocherà e sarà difficile però che andrà anche oltre, è più probabile, un ritracciamento. Però anche qui e anche in questo caso c'è spazio ancora per risalire per almeno un centinaio di pippe al rialzo. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading. Grazie a tutti. Grazie a tutti.